Amici di Fanner, benvenuti al Centro Sportivo Melli, siamo qui per commentare il campionato prima categoria, quarta giornata, quest'oggi si scontrano a W3 Roma Team contro il Real Velletri, mette dentro, ha molto spazio, il numero 11, Picilli vicino al vantaggio, il Real Velletri, calcio d'angolo con il destro, mette dentro, esce, però, ma ancora ci prova col sinistro, altra azione pericolosa, ma bravo, che andi di a crederci, stai in aus ora, alza la testa, sullo spazio, pericoloso per Picilli, che azione sprecata da Picilli, esce bene Pro e lo intercetta, col destro, batte molto bene, poco alto sopra la traversa, Mirante col mancino dentro l'area, sfiora l'incrocio dei pali, un tiro cross molto pericoloso di Mirante, dietro c'è Di Rosa che l'ha, a sua volta per Mirante, prova al sinistro Mirante, che parata di Rovitelli sul sinistro, potente di Mirante, vicino al gol, finisce qui il primo tempo, 0-0, poche emozioni, Real Velletri 0, Roma Team 0, calcio di punizione, va Mirante con il sinistro, pericoloso, cosa salva, la mette in corner Rovitelli, ma sempre pericoloso con il mancino, Mirante, del prete, mette dentro, traversone pericoloso, cosa para pro, paratone di pro, balla al piede sulla sinistra, c'è Ciorciolini, la mette dentro Ciorciolini e Panzeri, sul secondo palo, il gol della W3 Roma Team con Panzeri, suo assist splendido di Ciorciolini, c'è Mirante, si gira a spazio Mirante, alleggerisce ora, prova al destro, dalla distanza, Ciorciolini, parte del prete, con il destro, potente alla sinistra di pro che neanche si muove, sigla la rete del pareggio, del prete, con il numero 10, a spazio c'è Baldassarre, che può provare la conclusione, arriva Alessandrini, col sinistro a fil di palo, sigla il 2-1, la Roma Team nuovamente in vantaggio, allora Baldassarre scarica fuori, per la rete, la rete ancora di Alessandrini, ed è ora certa la vittoria della Roma Team 3-1.